una bella partita della ternana giocata bene dall'inizio e anche il tuo gol meglio di così sì sono contento perché abbiamo dimostrato carattere abbiamo dimostrato cosa dobbiamo fare perché abbiamo obiettivo obiettivo arrivare serie a dobbiamo vincere dobbiamo andare ogni partita per vincere poi si succede se siamo al cento per cento tutti diciamo il mister aveva parlato in occasione della gara con la casertana di un approccio sbagliato no il primo tempo non gli era piaciuto oggi secondo te oggi era diverso e oggi abbiamo si non parlo bene italiano si abbiamo un approccio giusto abbiamo visto che se non siamo a cento per cento se crediamo che possiamo fare 90 siamo possiamo anche perdere ma allora dobbiamo dobbiamo fare come abbiamo fatto oggi e sei uno degli ultimi arrivati ti sei integrato bene però già con la squadra sì perché giocatori sono ragazzi buoni sono tutti tutti bravi e mentalità e e forse è comodo e mi piace e faccio sì e ci racconti il tuo gol se ce lo racconti come come è successo si con sinistra è stato è stato sorprendente anche per te no sì no ma ma abbiamo abbiamo provato tante tante occasioni su all'allenamento e e anche anche dobbiamo fare gol con occasioni così con corner provati sempre grazie grazie